A questo punto il Presidente Maurizio Tira, Presidente del GAR, per un saluto. Insomma abbiamo capito davvero come sia importante davvero il ruolo del Consorzium GAR in questa fase. Sì, grazie. Innanzitutto anche da parte mia un caro saluto al Presidente Zoccoli, al caro amico Rettore Mola dell'Università di Cagliari e tutti gli esponenti delle istituzioni. Credo che rispetto a quello che abbiamo già sentito dal punto di vista tecnico sia interessante sottolineare due o tre aspetti. Allora, la capacità di fare rete. GAR, anch'esso ha compiuto l'anno scorso vent'anni, è nata dall'idea di mettere insieme diverse reti per gestirle insieme e quindi la capacità di connettere. L'importanza delle reti, di questi tipi di reti, credo non sfuga a nessuno. No, probabilmente nel futuro sarà più importante di altre reti fisiche che sono quelle che conosciamo dalla storia, come quelle viabilistiche, perché la connessione per questi tipi di trasmissioni, di dati, di conoscenza, di informazione è fondamentale. Vorrei anche dire che questa è parte della realtà. Prima il rappresentante del Comune diceva noi che siamo una parte della realtà. Secondo me la scienza è parte della realtà, anzi è una parte della realtà che noi scopriremo magari nella nostra vita comune fra qualche tempo, ma che la scienza anticipa, quindi non è per niente slegata. Vi ricordo, tra l'altro, che i finanziamenti del PNRR che sono andati nel loro complesso, i 15 miliardi al sistema necessario della ricerca, sono from research to business, quindi hanno già dentro la mission il fatto di portare i risultati della ricerca anche al mondo delle imprese. L'altro aspetto che mi piace sottolineare, che è già stato detto, è il superamento del digital divide, e quindi delle diverse potenzialità di collegamento alla rete e quindi di accesso ai dati che questi progetti consentono. Un Paese avanzato è un Paese che anche dimostra con queste risorse, che da tanto tempo non vedevamo e che forse per lungo tempo non rivedremo, che dà anche la capacità di superare le differenze che esistono nel Paese. Quindi particolarmente anche per me è un onore essere qui in questa Regione, perché questa Regione vedrà nei prossimi anni i progetti molto rilevanti per il Paese e per l'Europa e che supereranno anche quello che magari in altri campi della vita associata, ma non riguarda noi che facciamo ricerca, è un Paese a diversa velocità. Noi non vogliamo un Paese a diverse velocità, ma vogliamo un Paese che insieme contribuisce, come sta facendo, allo sviluppo non soltanto della ricerca qui, ma in Europa e quindi nel mondo intero. Un punto su cui poi magari discuteremo nella tavola rotonda è anche quello della sicurezza e dell'affidabilità, e quindi GAR, credo, porti dentro il progetto anche un grande know-how dei suoi ricercatori, di chi lavora nel GAR, anche rispetto alla capacità di generare dati, analizzarli, ma anche gestirli con la dovuta sicurezza, che sappiamo è un tema che sicuramente sarà sempre più importante quando la quantità di dati che ci scambiamo e la velocità aumenterà. Quindi grazie anche da parte mia e complimenti ovviamente, grazie alle istituzioni regionali che hanno consentito a noi di essere qui. Grazie Presidente, adesso proseguiamo con... Grazie a tutti.